Io sono stato scritturato da Evo Chiesa nel 1959, appena uscito dall'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica di Roma. E ricordo che al momento di discutere del vile denaro io feci una richiesta di 4.000 lire al giorno e lui mi disse che ero troppo modesto e aggiunse questo per farti capire che non tutti i genovesi sono taccagni. Fu un gesto molto particolare, molto bello, che io ricordo con grande affetto. Niente, sono stato con lui per tutto l'arco del suo mandato, per cui per oltre 40 anni, per poi proseguire con Repetti e Sciacaluga in mio rapporto. Evo Chiesa è stato per me un padre, evidentemente. Un padre? Avevo 20 anni. Un padre che mi ha insegnato tante cose. Cose che mi sono tornate poi utili nella vita. Io credo che dove è adesso, lassù, senz'altro fonderà un altro grande teatro, come il suo Teatro Stavine di Genova. E mi auguro tanto, spero, che quando sarà il momento, spero tanto di farne parte anch'io. Sì.